Quarto Mancini, dobbiamo cominciare però dalla fine per fare chiarezza su quello che è successo nel finale il battibecco con la panchina del Napoli. Il battibecco, dovete domandare a Sarri, che è un razzista e gli uomini non possono stare nel calcio. Cerchiamo di spiegare un attimo. È nato tutto dal recupero, dall'assignalazione del quarto uomo, poi però sono volate parole pesanti da parte di Sarri al suo indirizzo.